pressione in ulteriore aumento per l'avanzare verso levante dell'anticiclone delle azzorre che nei prossimi giorni tenderà a insistere su gran parte del mediterraneo determinando prevalenti condizioni di stabilità in toscana lunedì 30 novembre molto nuvoloso coperto per nubi basse in particolare sul centro nord della regione dove in serata non sono escluse locali pioviggini poco nuvoloso in montagne sul grossetano possibile formazione di foschie e nebbie al mattino e dalla sera nei fondovalle dell'interno venti meridionali deboli o al più moderati lungo la costa mari mossi a larga nord dell'elba poco mossi altrove temperature insessibile aumento le minime in lieve aumento le massime sul territorio provinciale da poco nuvoloso ha coperto a lucche sulla piana temperatura minima 6 massima 14 gradi in versile sul litorale minima 8 massima 16 in garfagnane zone montane minima 2 massima 16 gradi martedì situazione sostanzialmente stazionaria